abbiamo iniziato per lori ciao monica che ride sempre monica non c'è un motivo e lei ciao così 5 4 3 2 1 dimmi come la veri mi mostra una scena che è il dipinto di marat il martire della rivoluzione francese e vedo che lei è tipo una foto reporter quindi moderna con una macchina fotografica moderna che scatta delle foto ma il dipinto di quello della vasca da bagno esatto lui ucciso da una serva mi sembra di ricordare che non mi ricordo come è attento al colo no è togliato i polsi la vola se a me viene la gola una gola ma non ho capito lei è una reporter e fa la foto al dipinto se ci sono questi due momenti temporali diversi perché marat è collocato nella rivoluzione francese e lei invece è nei tempi odierni sì ma cosa fotografano non ho capito questa scena come se l'omicidio fosse appena avvenuto a lei la giornalista quindi una un'immagine più che altro simbolica non lineare lei fotografa una scena avvenuta presumibilmente in un'epoca passata come una rappresentazione di sé lei è come una rivoluzionaria che riesce ad esserlo non fino in fondo ma lo è profondamente ok ti dà l'autorizzazione decisamente sì ok tu la conosci si può dire perché mi dà questa epoca qui epoca del sole che come vi siete conosciute mi fa vedere che eravamo nel popolo amiche amici due uomini due uomini due rivoluzionari che avevano compreso delle cose vanno preso consapevolezza di certe dinamiche del potere e non non concordavano volevano opporsi come finita male siete morti giustiziati schiacciati e vedo dalla folla lei e lori ti ha riconosciuta si era nato una grande amicizia e ti riconosciuto lei mentre le esponeva i punti si è detto che ti ha guardato negli occhi e ti ha capito che eri tu no che la dovevi aiutare tuttavia lei va in ipnosi infatti quindi proprio voluto il tuo aiuto bene vibrazione di lori 62 miliardi consapevolezza 194 per cento ps 48 per cento vite precedenti 1288 cervello 9.9 pagellona promossa e quest'anno ti regaliamo la bicicletta rossa ma pagellona o na o na si è commossa se mostro perché ti sei rivista sì perché alza le frequenze alzare credo che sia stata una delle più belle amicizie delle mie vite va bene pagellona 62 miliardi da capogiro quasi 200 per cento di vidi di consapevolezza ps quasi a metà vite precedenti scarsucce quindi bene quasi 10 10 diciamo di cervello quindi una fuoriclasse una già avanti cause cause esoterica dello scippo quattro mesi fa allora me lo collega in qualche modo a questo episodio qui di mara perché era stato preso diciamo così a tradimento lui e nella stessa maniera lei è stata come presa tradimento da dietro ma mi fa vedere come lo stato d'animo era molto simile quindi in realtà di grande coraggio di grande forza cioè di sapere di essere nel giusto e che quindi anche se eventualmente il corpo ne avrebbe sofferto tutto il resto no mi fa vedere come l'entità che la minacciano hanno provato in vari momenti della sua vita in special modo mi fa vedere l'incidente dell'anno 2000 e mi fa vedere questo recente invece in cui cercano di sottrarle questo suo spirito di coraggio e di rivoluzione che è molto molto forte e che è quasi inafferrabile incomprensibile inestraibile ma ci provano a farlo mi fa vedere come questa bottiglia usata da questo ragazzo che ha spaccato una bottiglia di vetro e l'ha minacciata dalla gola lasciandole peraltro anche una piccola scheggia proprio nella gola sebbene non abbia proseguito nell'intento è come una specie di richiamo a quella che io vedo quasi come una specie di boccetta in cui volevano estrarre ed inserire questa sua enorme forza mista a coraggio mista proprio a spirito rivoluzionario di riuscire a guardare in profondità le cose e trasformarle entità eteriche è molto in lontananza mi fa vedere un anfibio misto ad un rettile un ibrido così alle sembianze di un animale preistorico rettiliano però vedo che va nell'acqua poi mi fa vedere un piccolo pulcino quindi un falconiforme in embrione e una tigre grossa edl? due quindi aspetta la tigre un pulcino piccolo falconiforme e un ibrido rettile anfibio entità mentali e dunque me ne da due che sono Dixit e Frequenza allora Dixit me la da come livello due talvolta tre e si riferisce a tutto ciò che vorrebbe dire e non riesce a dire a volte anche convincendola che non è in grado di dire non è sempre vero come se lei appunto avesse questa credenza che non è in grado di esprimere completamente quello che vuole dire e non sempre così altre volte invece è proprio così l'entità la bloccano nel riuscire a dire profondamente quello che sta nel cuore perché è come se cioè lei avesse compreso delle cose veramente grosse ed importanti ma fosse difficile verbalizzarle e certamente l'entità ostruiscono questo passaggio dal sentire al dire Dixit 2 2 barra 3 e Frequenza? allora Frequenza la vedo come 4 ed è tutta una serie di strategie che vengono messe in atto per cercare di minare la sua frequenza perché io la sua la sua frequenza l'ho vista a 62 miliardi in verità ripulendola io vedo che immediatamente diventa a 362 miliardi un meccanismo di gestione ma mentale di gestione della frequenza e rispazione della frequenza esatto proprio così ok l'ho già già fatto una sessione con una signora che conosco bene di motena diciamo che se vogliamo definirla con due aggettivi o degli aggettivi come gli aggettivi delle identità mentali direi opportunista e bugiarda tranquillamente senza nessun problema e ha avuto degli effetti questa sessione positivi o negativi? allora l'effetto positivo è che lei ha avuto modo di riconoscere se stessa se stessa in questa capacità che è quella di andare in ipnosi quindi è come se le avesse dato una conferma riguardo a questo in questo è stato positivo punto e quindi lei ha saputo valorizzare questo aspetto qui per il resto vedo che comunque lei è una persona che tendenzialmente non vuole avere pensieri negativi su nessuno e quindi è come se lori scusami lori 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 non vuole avere pensieri negativi su nessuno e quindi anche se di fatto le sono venute alcune perplessità le ha un po' messe a tacere in virtù del fatto positivo ovvero che lei era andata bene in ipnosi e quindi aveva visto che ha tenuto solo il positivo ecco ok quindi diciamo servito a niente se non a perdere del tempo ok sì quell'aspetto lì solo la sua conferma è di essere in grado di andare in ipnosi benissimo pianti allora mi fa vedere come perché vedi su di lei viaggia tutto in maniera molto di frequenza di energia quindi mi fa vedere come delle onde che in un certo senso sai sembrerebbe quelle onde che puoi vedere nel profilo dei tetti no delle tegole e me lo fa vedere che percorre tutto quanto il suo cervello uscendo anche immaginati appunto queste onde le vedi dall'esterno della tempia poi tutto all'interno del centro del cranio e fuori anche dall'altra tempia e questo un'impianto mentale pianti mentali entità mentali che vediamo solo noi poi solo le dita della del piede destro non vedo altro cosa servo o non le dita del piede destro sono eterici questi si me lo fa vedere come una specie di barra che vuole tenere le dita del piede molto unite molto chiuse ed è l'unico impianto che durante le abduction sono riuscita a mantenerle perché il resto alcuni li ha rimossi lei stessa altri proprio non sono riusciti ad inserirli è stato l'unico punto in cui sono riusciti a tenerlo mantenerlo ok basta progetto di lori rivoluzione la rivoluzione con spagnolo o francese tutto la rivoluzione va bene quanti abduction già ci sono come hai detto è come se fossero dei tentativi quando lei ha avuto quell'incidente grave nell'anno 2000 quella per esempio era stato un abduction quasi completamente riuscita e che doveva terminare con la sua morte e invece lei è riuscita ad evitare la morte le altre sono state tutte quante mandate in fumo da lei tutte le abduction quella no quella era riuscita tranne quella sì sì ma le altre tutte sono state mandate in fumo quindi non ne ha molte all'attivo non ne ha subite molte tra virgolette cioè ci sono dei tentativi continui tanti tentativi continui sì anche quella recente di questa aggressione voleva essere anche combinata con un abduction ma non ce l'hanno fatta proprio perché lei è stata molto centrata visto che parliamo di abduction perché secondo me c'è una correlazione causa esoterica del fatto che non riesce a fare una risonanza magnetica e scappa imprendere dall'ansia sì sì perché c'è una forte connessione lei associa le due cose nell'anno 2000 quando lei ha subito quel grave incidente l'abduction era molto simile per tanti aspetti a degli esami che a noi vengono fatti mettono il tubo si la mettono un colmo grazia la tomografia sia la computerizzata ma anche vari tipi di prelievi di immobilizzazioni ma una di queste abduction dove la mettono nel tubo è riuscita o lei si ricorda all'inizio poi si ribella e la blocca quella dell'anno 2000 è riuscita quasi completamente in realtà attraverso questa abduction dopo un po' avrebbero voluto porre fine alla sua vita ma lei nella fase finale si è opposta e quindi non ha consentito che andasse in quella direzione l'abduction ha stravolto i piani va bene causa esoterica dei problemi alla cervicale ci sono molti residui di questo incidente del primo sì dell'anno 2000 sì tra l'altro mi fa vedere come era una specie di anticipazione me lo fa vedere come imparentato con l'attacco alle torri gemelle come se lei in questa sua abduction incidente avesse iniziato ad anticipare un pochettino tutti gli eventi che sarebbero seguiti come se lei viaggiasse in parallelo con i principali eventi storici quindi mi fa vedere questo impatto dell'aereo contro le torri gemelle simile all'impatto che lei ha subito durante questo incidente stradale contro come se lei fosse una torre gemella diciamo così l'impatto contro il proprio corpo ecco mi fa vedere questa affinità quindi problemi da cervicale sono solo un effetto di quelle cd incidente lì allora me lo fa vedere come si ripercussione di quello e mi fa vedere come questo impianto mentale a carattere ondulatorio vada a coinvolgere tutto ciò che c'è nella testa occhi naso orecchie cervicale nonché ovviamente tutte le sue problematiche di espressione e di ricordo spalla destra ma questa cosa qui me l'ha da legata alla scrittura come se lei dunque potesse essere molto portata per la scrittura ed è come bloccare la spalla destra e bloccare questa sua capacità circolazione allora la circolazione questo l'avevo già visto all'interno di questo suo esperimento dell'anno 2000 lì era stata un abduction molto potente che come ti ho detto doveva culminare nella morte e quindi vedo che siccome l'obiettivo loro era proprio riuscire ad estrarre questa sua capacità che purtroppo oggi viene chiamata resilienza che non c'entra niente con la resilienza come intesa oggi ed è la sua capacità di essere al contempo resistente rivoluzionaria ma non perturbatrice lei ha un mix di ingredienti che volevano proprio essere studiati estratti e vedo che per farlo le avevano inserito come diversi liquidi di contrasto vedo proprio una serie di aghi collocati specialmente vedo nella zona delle cosce e poi me lo fa vedere anche tutto dietro alla parte della gamba la safena mi dice la gamba quindi dal ginocchio in giù dal ginocchio all'anca ea degli aghi vedo nelle cosce e poi invece questa specie di tubo che gli percorre più che altro dal ginocchio in giù la safena in realtà fa tutta la gamba quindi si gambe gonfie più bene questo se quale cisti ripiegata ok allora premetto che non sono assolutamente di cosa si tratti anch'io ok è meglio non siamo condizionati non è per ilismo quindi qua mi dà invece un riferimento alla sua parte femminile mi fa vedere lei mi fa vedere le figlie mi fa vedere le zie mi fa vedere la madre mi fa vedere tutta questa catena familiare femminile aspetta perché mi dà questa forma di amo ripiegato su se stesso come se queste donne poi forse lei in maniera più spiccata avessero tutte delle doti un po particolari e probabilmente questa sua problematica anche se declinate in modi un po diversi potrebbe essere presente un po in tutte loro ed è un fastidio che le blocca in quelle che sono delle doti anche un po sciamaniche denti e mandibola io lo vedo legata a questo impianto mentale è molto vedo che per cambiare queste sue frequenze hanno bisogno molto di incidere sul piano fisico perché lei da un punto di vista mentale ed emotivo e coscienziale è molto forte e quindi hanno bisogno di intervenire molto sul piano fisico perché altrimenti davvero lei decollerebbe tantissimo se non avesse tutte queste problematiche fisiche che la ritardano che la distraggono capacità mediane che visto che le nominate con 9,9 siamo pronte a spiegare il volo e già dovrebbe esserci qualcosa la sua capacità ad andare in ipnosi la sua suscettibilità ipnotica già ne è una dimostrazione poi comunque mi riporta di nuovo qualcosa che descrive cosa scrivi allora vedo come tipo lei un po medico sciamano che scrive come delle prescrizioni mediche a distanza ma fan delle prescrizioni mediche non ovviamente della della medicina che noi conosciamo a quella che imposta guaritrice altre letture del pensiero la visualizzazione più profonda un po energetico per assurdo è come se fosse oltre il pensiero lei oltre sì il tipo di lettura che lei riesce a fare è oltre il pensiero è come se andasse più come se lei riconoscesse che il pensiero è solamente uno strato superficiale della persona e riuscisse andare più in profondità riuscisse a cogliere altri strati più profondi io vedo che lei riesce proprio andare più è più una lettura del cuore se vogliamo dire più che del pensiero mi fa vedere lei che riesce a creare una mappa del cuore della persona proprio una geografia mi fa vedere che lei riesce a capire dov'è il luogo di residenza della persona ovviamente sto parlando da un punto di vista eterico eh non la residenza anagrafica quindi riesce a capire qual è il il centro la sede delle problematiche animiche della persona riesce proprio a creare una vera mappa della persona a capire come la persona si disloca io la vedo su questo discorso della guarigione infatti vedo che lei sta agendo adesso sulla mia ovaia destra che mi sta dando un po' fastidio in che effetti all'inizio pulsava molto adesso è come se fosse una sensazione di distensione di rilassamento ok causa esoterica dell'imbarazzante problemi di memoria le persone la fermano le ricordano avvenimenti anche relativamente recenti e l'estate scorsa ti ricordi lei non si ricorda niente e dimentica anche alcune parole è molto infastidita è molto contrariato da questo problema è l'impianto mentale che serve per andare a rafforzare la sua entità mentale frequenza in modo proprio che questa giustamente condizione di imbarazzo che vive le vada a abbassare le frequenze tra l'altro che la cosa particolare è che mi fa vedere che da un certo punto di vista è come se questo volesse anche inibire la sua connessione con le altre persone ma è come se comunque non fosse sufficiente cioè da un lato lo è perché chiaramente lei si trova in difficoltà nel momento in cui le persone le ricordano determinate cose e lei non se le ricorda ok quindi va a rendere un po' più blanda la connessione con l'altro però è come se in verità la connessione che lei in grado di stabilire con l'altro andasse talmente al di là di queste cose che comunque riesce lo stesso a connettersi con l'altra persona va bene stanchezza visto che non è soggetta ad abduction ma tentativi di abduction e quello sì perché è molto spostante comunque per lei ogni volta resistere a questi tentativi di abduction lei lo fa ma chiaramente con una certa dispersione di energia respiro a metà allora c'è come un ricordo di tentativi di abduction in cui una delle prime cose che cercano di fargli è mettere una specie di placca qua sopra il petto una placca che crea una compressione a livello del petto ed è quindi come un ricordo una sensazione che viene protratta nel tempo quindi questo è il primo fattore poi mi fa vedere come lei attraverso il respiro potrebbe entrare in uno stato molto profondo di ipnosi e quindi le viene impedito questo vedo che il suo respiro riesce proprio a farla connettere profondamente con sé e con gli altri il respiro alla fine di questa sessione tutti gli elementi che le dimezzano il respiro saranno eliminati e cosa riesca di diventare lori la rivoluzionaria rivoluzionaria mi dice visionaria che vede avete le persone vede i progetti vede le possibilità lori tu hai due figli due figli due figli tre figli tre figli nel cinema marito e vediamo subito se il marito si accende come fiamma per se la fiamma all'ex marito certamente no ok anche se è venuto ugualmente l'attuale compagno si scusami c'è nato alle compagno no ho capito sì 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 certo certo allora ci dico questo che vedo allora lori è una persona in grado di in grado e che vuole amare profondamente lo vedo che lei questo lo distribuisce un po a pioggia e lei vuole creare fortemente un rapporto di amore il suo compagno attuale lo sento questo calore lo sento questa voglia forte che lei ha di amare la vedo come anima fine di terzo livello non so se lui riesce a diventare la fiamma per lei terzo livello un po metà come la fine perché lori c'è nel momento in cui si appropria di tutta se stessa io non so se poi le basta quel rapporto lì c'è una rossa cilindrata è sì c'è un 3000 benzina che cova mentre ora va sui mille e se il suo compagno sta sui 800 cc qualcuno non apprezzava queste mie similitudini coi motori qualcuno che lo riconosce molto bene e io me ne sono sempre sbattuto cazzo ho una parolaccia invece sono molto esemplificative ma esiste una fiamma grezza o delle fiamme grezze me le colloca al nord italia lombardia per ora quante 3 perché tutte lì un altro mi dà valenza po viene fuori questo nome visto sia un posto microscopico ciao a tutti gli amici di valenza po in televisione grandi zanzare grandi come gatti gatti zanzare che volano qualcuno legato non so se abiti lì o se sia originario di lì o che cosa allora devono stare adesso lì ok perché comunque lei adesso sta vivendo anche un'altra esperienza di vita quindi chiaramente dipende molto dalle sue scelte dipende molto da quello che lei vuole creare quello che lei vuole costruire nella sua vita ebbene quindi che adesso sia così tutto questo chiaramente è assolutamente in divenire cioè non c'è niente di fisso e di immutabile per il momento è quello che serve a lei che le cose siano messe così va bene io che mi immaginavo chissà quale rivoluzione questa rivoluzione diciamo è rimandata a settembre 15 una volta è rimandata in una fase successiva alla scuola c'è una scuola che le deve fare adesso no lei deve accettare tutto la grandezza che lei è effettivamente hai detto bene ci va un po ci va un po di tempo perché lei riesca ad accogliere tutta la sua enormità perché le pare quasi troppo lei è in qualche modo collegata a un'entità mentale collettiva fly down fly down esatto però stavo per dire fly down è proprio quello non ce l'ho mettiamo buttata lì così e se esattamente quella quindi è connessa a questa entità mentale collettiva si vola basso ma dove credi di andare stai umile di essere se l'umiltà questo che non so la speranza e l'umiltà siano due grandissime fregature una peggio dell'altra la speranza e l'umiltà attenzione non è che cosa diventare degli sporoni eccetera ma l'umiltà appunto di questo tipo ma chi ti credi di essere ma non te lo meriti poi vabbè tutto il discorso del merita sono un altro discorso ancora vabbè portale aureo lo apriamo chiamiamo tutti disincarnati di tutte le generazioni di lori l'ultima zia che è deceduto da poco viene ma proprio con il volto rigato di tante lacrime bagnato di lacrime il sguardo basso è come se fosse ritornata bambina l'altra per bambina più tranquilla più serena due bonbon alla alle due zie alla bambina ricca e all'altra zia ricca il cerchio delle donne mi dicono il cerchio delle donne mi fa vedere che si danno tutte per mano si tengono la mano tutte quante figlie zia lori c'è anche un'amica credo di lori poi forse anche un'amica del legata alle figlie bello che loro ci sono le due gemelle figlie interessante che lei abbia fatto due gemelle la zia mancata più anticamente cosa vuole dire a lori aspetta non so perché mi sta mostrando delle arance gli spicchi d'arancia cercare di capire il succo dice cogli il succo ma il succo della questione la vecchia zia la zia mancata più di recente che dice invece io sono sempre un po ascettico sui messaggi consigli di vita dei disincarnati disincarnati nessuno ti può dare dei consigli disincarnati men che meno che non hanno capito niente tant'è che sono ancora qui quelli che chiamiamo o poteva anche essere un ricordo sai questa arancia un ricordo della zia ah si riferisce quest'altra zia dice come me ne sono andata via all'improvviso non sarei stata pronta poi ad affrontare tutto il resto quest'estate correva troppo velocemente ok da qui mi sento più tranquilla più pronta ad affrontare tutto il resto e infatti mi fa vedere tanti eventi sai che si svilupperanno nel corso dell'estate ed effettivamente non tutti sono pronti ad accoglierli va bene quanti sono i disincarnati in totale 154 156 con le due zia 157 come se fosse adesso un in più l'ho già fatto in altre sessioni chiamiamo i ritardatari non noi ma i 155 a sto punto che generici che sono lì davanti al portale aureo tornano un attimo indietro vanno a prendere quelli che stanno dormendo 155 più 0 o un numero a bello mi fa vedere che ce n'erano altri seduti e loro gli danno una mano per alzarsi in piedi 182 beh di nuovo tutti 182 tornano indietro vanno a prendere gli altri magari anche non necessariamente parenti di generazioni e generazioni passate di lori anche amici gente che hanno incontrato lì così 182 201 ancora rischiamo il pentolone più disincarnati vanno nel totale aureo viene più se ne vanno nel portale aureo e più tutto questo mondo cambia in meglio si riduce l'entropia della consapevolezza si aumenta l'ordine e la consapevolezza viene un effetto dinamo scusami domino un effetto domino luminoso vedo che diventa 304 506 700 non sono più tutti male di loro e 4 no 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 siamo andati ben oltre ai vai vai come se questo effetto domino andasse proprio ad illuminare la consapevolezza di questi disincarnati che non si erano accorti dell'esistenza del portale aureo allora abbiamo un po più visibile andevano un po più visibile rispetto a come grande adesso lo rendiamo più grande di un miliardo di volte dimmi come lo vedi come che sensazioni si dà un portale aureo che già dovrebbe essere un bello spettacolo più grande di un miliardo di volte il diametro è un miliardo di diametri allora me lo dà come una di quelle grotte meravigliose e che non ti potresti aspettare da fuori e me la dà in espansione quindi dapprima l'ingresso non si vedeva io ero dall'interno e riuscivo a vedere l'ampiezza del portale aureo dall'interno ma dall'esterno la porta era piccola e per questa tua volontà la porta è diventata mano a mano più grande quindi più visibile più accessibile quindi questa grotta portale aureo viene resa visibile a sempre più disincarnati la luce che filtra dal portale aureo verso l'esterno è come se avesse una gittata lunghissima un raggio d'azione lunghissimo luminosissimo e vedo che raggiunge proprio la testa al terzo occhio di tutti questi disincarnati quanti entrano alla fine 10 0 0 1 il numero che mi viene ok 10.000 1 aspetta anche qualcosa di più ma lo rifaremo chiudiamo il portale aureo e chiediamo allora la rivoluzionaria cosa vuole fare mi fa vedere lei con in mano una lancia e e cluster subito vediamo vedo che già si sta avviando nel suo lavoro perché con questa lancia sta già trafiggendo i suoi contratti che sono semplicemente dei foglietti svolazzanti e lei quindi li va ad inserire tipo come uno spiedino no tutti quanti li va a infilzare e poi vedo che lancia l'intera lancia all'interno del portale definitivo bene è arrivato il momento di fare la lori che conosciamo e che conosce anche tu creare o fare la prima creazione la d'eterno si lei si è già dilettata varie volte e vedo che usa la sua penna questa penna che che mi ritorna rispetto alla scrittura la utilizza come fosse il generatore via d'eterno come una specie di bacchetta e gli fa fare un movimento rotatorio e da questo movimento rotatorio nasce la d'eterno messo ne ha fatto uno solo è gigante questo ricorda un po il portale aureo sì sì esattamente va bene avatar vediamo come lo vediamo anche faccio le ripetizioni oggi lanciamo la lancia vediamo come lo vediamo mi fa vedere le unghie dell'avatar tipo sei quelle unghie che si usano per fare la ricostruzione delle unghie solo quelle vedo via e anche qui un avatar se non ha l'eterno sì sì fatto fatto assolutamente progetto rivoluzione entità falco ibrido rettile figlio tigre 2dl dixit frequenza le due entità mentali connessione con entità mentali collettive fly down per esempio e altre che non ci interessano tutti gli impianti tutto il discorso marat tutto questo c'è ancora allora lei si è ripulita da tutto questo e quello che è il suo progetto rivoluzione che in questo caso in qualche modo la conteneva ok era una spinta rivoluzionaria ma contenuta ostacolata tant'è vero che tutto marat poi veniva ucciso è come se invece trovasse il modo giusto ed equilibrato per esprimersi come se ci fosse stato come una trasmutazione ok di questo progetto e come se è trasmutato quale nome adesso fa vedere raggi che tipo mi fa vedere questi raggi di luce tipo quelli che avevo visto essere emanati dal portale aureo mi fa vedere questi raggi dai suoi occhi me li fa vedere dal suo petto e dal suo naso quindi che hanno a che fare comunque con il suo respiro me lo fa vedere dalla mano destra come se fosse una presa di consapevolezza delle sue qualità delle sue potenzialità e le riuscisse concretamente ad esprimere senza più bloccarsi senza più ricevere sabotaggi e auto nuova vibrazione con queste nuove condizioni 992 miliardi nuova consapevolezza 342 per cento ps 58 per cento vite 344 cervello qua devo dire una cosa perché mi fa vedere un range mi fa vedere da 12.4 poi mi fa vedere 15 e poi mi fa vedere 17 devo dire a Lori di non avere in nessun modo paura di far crescere questa percentuale non c'è un limite questa frase che tu dici tanto spesso ora più che mai è importante significativa per lei da comprendere e adesso quanto a quanto è quella più bassa punto 4 sì che comunque tanto è tantissimo ok non resta che un messaggio finale di lei a se stessa in relazione appunto alle sue capacità alla sua indole rivoluzionare alla vita con voi due insieme ancora presente certo che si messaggio finale è all'insegna del viola mi fa vedere lei completamente avvolta da un turbine di viole mi dà lo strumento della viola il colore viola che è proprio il colore della ps messaggio solo questo viola viola è molto difficile da tradurre in parole quando la ps riesce completamente esprimersi in questa dimensione sei tu lori basta è veramente tanto importante perché l'informazione che mi arriva è la difficoltà della maggior parte delle persone a riuscire a manifestare completamente la propria anima così vincolata da tanti fattori di tempo di spazio di materia ed è come se invece per loro ci fosse l'opportunità di esprimere la propria anima non bloccata da questi fattori molto bene immagine finale di lori è sempre fotografa fatto di cronaca di sangue no cosa no allora mi fa vedere che sta passando dei momenti con le figlie mi fa vedere che prende in mano la penna inizia a scrivere e dice la mia nuova vita scrive questo va bene disconnettiti da tutte e tutti e noi torniamo grazie a tutti